Mercoledì prossimo, 15 gennaio, la Corte Costituzionale deciderà se ammettere il referendum per abrogare la legge che riordina la geografia giudiziaria in Italia, cioè la legge che ha cancellato 32 tribunali, fra cui i tribunali ce n'è anche uno pugliese, Lucera. Per questo la Regione Puglia si è mossa insieme ad altre otto, parte proprio dalle regioni infatti, la proposta di referendum, con la quale si chiede, insomma, di cancellare la cancellazione dei tribunali. A pochi giorni dal pronunciamento della Cassazione, a Lucera alcuni consiglieri regionali hanno incontrato il sindaco e i rappresentanti degli avvocati, per chiarire meglio e in pubblico le strategie da adottare dopo il 15 gennaio. Sino al 14 settembre prossimo, infatti, il governo può adottare provvedimenti correttivi della riforma, lo prevede espressamente la legge delega. La trattativa con Palazzo Chigi, quindi, da parte delle otto regioni, è sempre aperta e lo rimarrà sia che la Cassazione dica sì, sia che dica no al referendum. Se dovesse dire sì, naturalmente, gli anti-abolizionisti dei tribunali, chiamiamoli così, avrebbero comunque più forza. Al loro arco, però, hanno anche altre frecce. Per esempio, nessuno ha ancora dimostrato, calcoli alla mano, che abolendo tutti quei tribunali ed accorpando gli uffici nelle sedi maggiori, si risparmierebbe davvero e che, al contrario, le spese non aumenterebbero. Continueremo la battaglia da questo punto di vista. Poi, andasse male anche il 14 settembre, beh, dovremmo i nostri parlamentari darci conto del loro operato.